ok liscia pt8 liscia 9 e 10 e e e e e e e che cosa ho fatto? c'è un personaggio a 4 stelle vediamo noi andiamo a pt30 siamo a metà del pt con questa no ragazzi no io non ci vedo non ci vedo mi sento male no non è vero ragazzi non è vero non è vero ma che succede oggi? non ci vedo non ci vedo mi sento malissimo questo è 21 oddio 22 no ok scusate stavo un attimo di emozione 23 24 25 26 però lo accettiamo a pt va vai te l'ha indovinato ha scritto se è imeco puntini puntini ed è uscita vai ma l'hai chiamata tu mi ha scritto in chat se è imeco e poi ho cliccato è la r4 oddio c'era veramente il personaggio comunque 1 2 3 4 e di 4 è la r4 andiamo a 74 ecco intanto ce l'abbiamo molti del 5 stelle molti del 5 stelle vediamo 65 66 67 68 buono 69 70 dov'è 71 71 72 73 a 73 cesso a 73 è uscita della verità vamanos 5 stelle e intanto non si va oltre meno male perché si può rischiare anche di andare oltre quindi 5 stelle doppio così perché ti va all'improvviso 78 oh piti 78 abbiamo faticato tanto ma ce l'abbiamo bellissima divina pazzesca fantastica con quella veleno tirato nell'acqua con le mani bellissima piti 81 5 stelle c'è per fortuna non si va oltre la 81 è già qualcosa dai preghiamo preghiamo allora questa era 72 73 74 75 76 77 78 78 oh l'abbiamo fatto c6 prima ciao jojo l'abbiamo fatto le 6 prima questa è una pool mi fiscio era la le 6 79 questo banner è proprio una merda l'abbiamo fatto la ho già sembri me con l'arma di guepard vuoi tu prendere in moglie la qui presente bronia si lo voglio ragazzi le prove le prove guardate è francesco guardate le prove e con il potere conferitomi dalla oioverse vi dichiaro ufficialmente marito e moglie un applauso 54 ok luca es early pt early early pt basta l'abbiamo capito 6 e 6 6 e 6 l'abbiamo capito siamo a posto così a posto così mi sento così Arlux allora questo era 45 46 47 48 49 50 51 52 basta imeko basta e la light con la violet siete connessi comunque Arlux e violet sono così amici che uno si è beccato l'arma e uno si è beccato il personaggio e se ci c'è vediamo quanti ce ne sono vediamo 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 bene 86 77 78 79 80 vieni vieni Arlux e ti faccio un po' di posto sul mio divano ci siamo 5 stelle c'è 65 66 66 67 68 69 e fai 4 70 71 oh gesù 72 dove vincchia è 73 si eccolo all or nothing letteralmente abbiamo tirato all ma ne valza la pena è il momento ti ringrazio mio signore non ho più paura perché serviva anche la beta e le sa anche la seconda strofa io so soltanto l'inizio grandissima donna di pietra adesso benedetta no per troppo no benedetta 75 76 77 88 si grazie riri ma va a far culo lo stesso per te mi porti fuori la minchia però questo è un altro discorso però grazie ordine e disciplina aspetta aiuto ti ringrazio il mio signore non ho più paura perché continuate da voi io non la so perché perché aspetta devo vedere qualcuno allora fai continuo perché vediamo se continuano in chat io stavo cantando ti ringrazio mio signore vediamo se adesso me la continuano quelli che la sanno ecco nella mia mano della mano degli amici miei vai andiamo andiamo ok perché perché una strofa una singola spavento ma che è spavento questo mi sta dicendo non pulare cosa sei cos'è cos'è questo cos'è non lo so non lo so non lo so no 60 qualcosa 60 no però mi va a casa ok allora 13 vabbè facciamo sì andiamo a 13 Orazio in the space let's go eccola eccola easy easy potevi convertire una sola multi eccola potevi convertire una sola multi minchia ma chi se ne frega dell'arma di crara non serve una minchia chi se ne frega ma chi se ne frega poi tu oh subito piti duke 5 ma vaffanculo minchia ma vaffanculo ti ringrazio mio signore non ho fufo ora ora ve la canta stay with me ti ringrazio andiamo oh oh c'è assino oh c'è assino c'è assino c'è assino ho detto è delicito perca porca non ci posso eredere ma perché c'è assino no raga non ci voglio eredere no se è sovento minchia se minchia se l'hai trovato minchia se l'hai trovato oh che spavento comunque me stessei sì sì lei ormai si è già rifatto una culla di tutte che l'ha consumata vedi bisogna fare all in all or nothing dice lui dice all or nothing tu hai rischiato lui ti premia tu tremando eccolo eccolo l'avevo detto all or nothing non ci credo l'ha premiato ma quanti 50-50 andiamo a 40 yes dai dai oddio 5-60 oddio oddio ok 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 va bene ok davide se ci sei io perché se lei sviene da sicuro sia coso aventurine ok va bene davide ok questo era 32 sì 33 34 guarda che ansia oh gesù mio 35 oh buono la E3 36 36 aiuta 37 oddio 38 dai dove è 39 l'ultima 40 no però manca però pd 40 questa è la mia fortuna su star rail quindi diamo 81 81 81 vai anche da nang è uscito qua questo è il tuo piti 81 è il tuo piti dei boni miri abbiamo capito questo era meglio se era 18 piuttosto che 81 però esatto da poi è uscito di 34 ecco eccoci qua oh il marito io posso dire sì lo voglio sì che lo puoi dire sì lo voglio guarda ti mettono in sottofondo te non lo so non lo senti forse perché sei non in live non so io ti metto la marcia annunziale in sottofondo come giusto che sia oh c'è quel bouquet della laurea con i figli ecco col bouquet della laurea lo puoi convertire in bouquet di matrimonio siamo a posto dai che è fatta oh i testimoni siamo io e Davide bene vai fatto eccolo oddio oddio dai prego almeno che sia lei almeno che sia lei oh mio dio prego 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 sì sì fenomeno fenomeno ho perso quindici anni raga ti ringrazio mio signore non ho più paura perché con la tua mano nella mano degli amici qualcuno qualcuno lo zettisce nel 5 minuti nella mia zitta mi sento più solo lo starreno non ho mai trovato il doppio 5 stelle ma è questo il giorno giusto dai ma portiamocela a caldo dai fidi 70 no siamo a 74 sì andiamo a 84 multi del 5 stelle let's go e ridere se non uscivo il 5 stelle adesso no no veramente se sono andato dopo l'84 ci si poteva far recuperare dalla barella che ti avevamo menzionato prima che sono andato a barella diretta ok eccola eccola anche abbastanza inizio era la terza singola no 81 esatto magari il doppio 5 stelle chi lo sa andiamo dai vediamo 5 stelle ce l'abbiamo ce l'abbiamo intanto vediamo vediamo no Benji ti prego no la 72 73 74 70 no non ci credo no 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 cosa hai detto prima no no cosa hai detto prima visto che l'arma di brogna ce l'ho già ce l'ho già e brogna è uno con la light con s2 adesso no guarda un attimo a destra tutto a destra marty a destra del biglietto concentrati lì sei pronta eccolo 5 stelle 5 stelle 5 stelle questo è garantito nel bar aaaah non l'hai scondito sull'eventurin ti so capullare tutto di là adesso yes però l'abbiamo visto tutto l'arcobaleno no quant'è quindi quindi questo è 40 andiamo a 30 quindi no andiamo a 30 quindi questo è 21 22 come andiamo a 30 23 è giusto qual è lo che dici marty 24 eccolo è pure doppia facciamola a Davide vai tanto ne ha poche senti appago di sicuro dai vediamo se è lui 71 72 73 74 75 ciao ecco l'assicurato 76 non è vero 1 2 3 4 dimmi quanto credevi fosse lui quando hai visto il sito del preservation il sito del preservation let's go tanto c'è il 5 stelle molto bene molto bene chi è chi va là vediamo 75 76 76 si subito pg 76 con il 50 e il 50 è lui ci siamo ragazzi è il momento mulzini e 5 stelle yes è quel momento 65 66 67 68 69 70 oh gesù 70 si vinto anche questo bene dai sei pronto sì è il momento vai quando te la senti let's go 5 stelle c'è ce l'abbiamo dai incrociamo le dita che non è scontato visto che hai detto che si è toccato un pt 86 nel banner di genshin non è mai scontato ok vediamo allora questo è 75 75 sì 76 oh di questi ne sono usciti un botto detto poi è questo altro che vai vai cugino continua continua andiamo oh eccolo sì prima del pt buono buonissimo si può tirare qualcosa anche di là così meno male oh dai eh dai hai visto raga l'abbiamo trovato prima del pt allora vediamo ok vediamo dove sta dov'è un altro grande fraschium il più forte eccolo 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 allora questa multi era quella per andare a 37 giusto Davide sì esatto quindi lui è tipo 36 34 34 34 pt 34 vediamo 1 2 allora pt 35 pt 35 eccolo ce l'abbiamo il signorino l'abbiamo preso molto molto bene ok gippa scusate che c'è mia sorella qui vediamo vediamo se porta forza una zitta mi misce dopo vivo 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 con i gufi meno male meno male la sorella è bufo la sorella è bufo ha portato bene grazie sorella ultima multi prima delle singoline vediamo se arriva magari qua sorpresa un regalo eccola qui c'è ce l'abbiamo ok ce l'abbiamo erly ufficialmente erly oddio vediamo se è nella prima se no adesso facciamo i nostri ragionamenti allora vediamo ok dai preghiamo forza dai 63 64 60 oddio si 65 dai oh che bello bellissimo bene 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 sono contenta un po' con un sacco di fraschium nelle multiprima quindi tanta roba si tira dritto 5 stelle no perché ok si sceglie 85 mannaggia mannaggia eh no mi ha ascoltato il gioco il gioco mi ascolta un maledetto coniglio ma non tanto adesso non lo vinco no non è scritto così vabbè ok farvi i colpi così 85 76 77 78 in realtà siamo a 73 5 esatto 5 6 7 8 9 9 80 ragazzi arriviamo a 80 la voce a mafio io dai si bello belli aneddoti ve li tenete per un altro giorno ora c'è il 5 stelle eccolo l'avevo detto ci siamo ci siamo ora c'è il 5 stelle vediamo se il porci ce la manda buona se hai il destruction ed è quello sbagliato mi lancio se lo dico eh mi lancio io vedi tu ok siiii oh meno male 4 let's go aiuto 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 e che è ora stella aiuto allora 25 26 cessa però a 26 va bene e poi è la E1 di Bronia mi inchino andiamo let's go andiamo molti tirata 5 stelle non si è visto un doppio né nel banner di Acheron né in questo che sia l'ultima pool di oggi è destinata ad un doppio 75 75 76 77 78 eccolo 78 ce l'abbiamo potter magari in store por l'abbia è la la ho di il il in ... il in il